Prima di vedere la strutturazione di un modulo in Flipped Classroom, vediamo brevemente cosa sia questa metodologia. Innanzitutto per Flipped Classroom si intende quella metodologia didattica attiva che Flipped, cioè capovolge, tempi e modalità tradizionali di lavoro. In sostanza a casa si seguono delle lezioni tramite brevi video o realizzati dal docente o reperiti in internet e in classe si effettuano esercizi connessi ai contenuti spiegati da quei video. Quindi in sostanza quello che si fa normalmente in classe, cioè la lezione frontale, viene fatta a casa tramite video e quello che si fa normalmente a casa, cioè l'esercizio, viene fatto in classe. In un certo senso si capovolgono le tradizionali metodologie adoperate a scuola. L'approccio quindi vuole superare in parte la lezione frontale, vuole fare soprattutto una cosa, cioè vuole liberare del tempo in classe per aiutare gli studenti in quello che è ritenuto essere il momento in cui c'è maggiore bisogno del docente, cioè il momento dell'esercizio e non il momento della spiegazione. Ora, tralasciando questo aspetto che non da tutti è condiviso, effettivamente se il docente riesce a dare agli alunni dei contenuti multimediali per lo più video in cui si spiegano in maniera circostanziata degli argomenti, è poi molto probabile che in classe si riesca a fare esercizio insieme o per gruppi su quegli argomenti. Lo schema dunque di attuazione è abbastanza semplice. Si assegna un video, questo video può essere realizzato dai docenti o reperiti in internet, e poi una volta in classe, dopo aver brevissimamente ripreso quei contenuti, si effettua un lavoro di gruppo in singolo sui contenuti che sono stati spiegati dal video. Questi sono alcuni vantaggi. Gli studenti possono per esempio lavorare, vale a dire seguire la spiegazione su dei ritmi e momenti di lavoro a loro più congeniali. Gli studenti si dice anche che non perdono mai le lezioni perché quei video resteranno per quello più online. I docenti dal canto loro preparano questi video o li raccolgono se sono online e poi supportano, e questo è il dato più importante, gli alunni nella risoluzione dei compiti in classe. Il ruolo delle tecnologie è importante nella Flipped Classroom. Si può teoricamente anche provare questa metodologia senza l'apporto di tecnologie. In quel caso però non si assegnano video, ma si assegnano pagine da studiare, magari del libro di testo, e in questo senso molti attuano la classe capovolta più o meno consapevolmente da molti anni, e poi, e questa fase rimane identica, in classe si verifica l'esercizio insieme. Quindi il docente sottopone agli alunni degli esercizi e poi nel momento della risoluzione affianca i ragazzi che magari si presuppone abbiano maggiori difficoltà. Ora invece vediamo un esempio concreto di realizzazione di un modulo legato alla letteratura di Flipped Classroom, cioè di classe capovolta. Quello che vediamo ora è un esempio realizzato passo per passo di quello che può essere un modulo piuttosto circostanziato erogato in Flipped Classroom sulla letteratura, in particolare su Giovanni Verga. Quello che vediamo è stato realizzato col sito tac.com, ed è un modo molto semplice di elencare una serie di contenuti che i ragazzi possono vedere, ma anche possono sviluppare. Il titolo iniziale è un esempio di Flipped Classroom su Giovanni Verga novelliere. Allora, prima cosa da fare, fase 1, fornire ai ragazzi materiali e naturalmente gli obiettivi. Il docente deve sempre chiarire quali obiettivi si vogliono perseguire con un modulo in Flipped Classroom, in questo caso anche naturalmente dei contenuti. Questi contenuti possono essere video svolti dal docente oppure anche reperiti in internet. Si consiglia l'uso di video da 10-15 minuti, quindi video non troppo lunghi e molto legati a un argomento, quindi non di carattere troppo generale. In questo caso io ho preso un video di un collega presente in internet legato alla spiegazione di un aspetto di Giovanni Verga novelliere. Ho integrato questo video direttamente nel mio lavoro, tant'è che ora, ecco, ho tolto il volume, però effettivamente c'è un video di una durata esatta, sono circa 10 minuti, in cui oltre a una breve spiegazione si fa anche un riferimento proprio testuale. e ringrazio il professor Gaudio che mette a disposizione sempre degli ottimi contributi in questo senso. Quindi si fornisce il contenuto. Questo contenuto, ripeto, è circostanziato e ha degli obiettivi specifici da rivolgere ai ragazzi. In questo caso gli obiettivi sono trovare le caratteristiche tecniche, tecnico-letterarie e stilistiche del verga novelliere. Quindi non di verga in generale, ma di verga quando scrive determinate novelle, che in questo caso sono quelle di vita dei campi. Questo si presuppone che i ragazzi lo facciano a casa. Si arriva in classe e non si ricomincia la lezione frontale, naturalmente, ma si riprendono brevemente gli argomenti. Possono riprenderli i ragazzi o può riprenderli il docente. L'importante è che non si cada di nuovo nella lezione frontale. Infatti qui si scrive, una volta in classe, riprendere in modo sintetico gli argomenti assegnati, magari tramite qualche domanda o breve integrazione. In questa fase possono essere utili anche delle slide, ma non sono necessarie. Ecco il cuore della Flip de Classroom, cioè l'esercizio in classe. Qui il docente deve aver necessariamente preparato dei materiali e quindi sottopone a classe un compito che richieda l'applicazione di quanto appreso. In questa fase opportuno non è necessario, strettamente necessario, ma è molto utile lavorare in gruppo, in modo tale che si possano anche attivare dinamiche di peer learning, cioè di apprendimento tra pari. Gruppi che si consiglia essere piuttosto piccoli, due o tre studenti. Ecco l'esempio che avevamo detto. Rintraccia nel testo che il docente sottoporrà quella mattina, che è diverso dal testo che sarà stato oggetto del video. Rintraccia nel testo le caratteristiche tipiche dello stile verista, per esempio descrizione fisica, riflessione sociale e contesto familiare. In questo sito che sto utilizzando, che ripeto è tac.com, io ho addirittura la possibilità di integrare il testo, quindi volendo gli alunni potrebbero fare direttamente l'esercizio online in questo sito. E qui ho semplicemente, ecco lo sto sottolineando, copiato e incollato una parte di testo che è esunta da rosso malpelo. Non è il testo integrale, ma è una buona parte di testo. Punto numero quattro. Dopo aver dato ai ragazzi il tempo per sviluppare questo esercizio, tempo nel quale, ecco, questo è importante, il docente affianca magari i ragazzi che hanno maggiore difficoltà, o quelli che si presuppone abbiano maggiore difficoltà. In questo senso la Flipped Classroom personalizza l'apprendimento, o può personalizzare l'apprendimento. Fase numero quattro. Verifica delle competenze. Dopo l'esecuzione del compito, durante la quale esecuzione il docente aiuta i singoli gruppi, è il momento di discutere i risultati raggiunti. Quindi il docente chiama i singoli ragazzi, i singoli gruppi a leggere quanto scritto, quanto individuato. Fase numero cinque. Questa è la rimediazione dei contenuti. Qui, senz'altro, dopo l'esercizio, il docente ma anche gli stessi alunni integrano la spiegazione che hanno già ascoltato nel video. La integrano con degli esempi nuovi, magari con delle riflessioni nuove, e questo può essere il momento anche per anticipare nuovi argomenti da svolgere sempre all'interno del macro argomento di riferimento, che in questo caso può essere perga. fase numero sei, la valutazione. Non è escluso che il docente possa anche operare una valutazione, magari dopo aver preso dimestichezza con questa metodologia. Magari si può ritirare un compito e valutarlo, oppure si può in questo modo iniziare una verifica orale di cui l'esecuzione del compito scritto può essere una parte. E, in questo caso, può essere interessante anche la possibilità di autovalutazione e o valutazione tra pari. Ecco, ora vediamo un po' una riflessione teorica che sta dietro questo lavoro. Quali sono i paradigmi didattici che questo tipo di apprendimento ha attivato? Innanzitutto ci può essere quello del problem solving, cioè quello di rintracciare e risolvere un problema. Ora, in questo caso letterario, naturalmente il problem solving è molto limitato, perché si tratta di ritrovare quello che si è studiato. Però non è escluso che la prima parte possa essere svolta anche sotto la dinamica del PBL, problem solving learning. Poi, allo stesso tempo, un altro paradigma didattico è senz'altro quello dell'apprendere facendo, learning by doing. Allo stesso tempo può esserci quello dell'apprendimento cooperativo, cooperative learning, nell'ipotesi che i ragazzi lavorino in gruppo e, perché no, anche quello dell'apprendimento tra pari nel caso in cui i ragazzi lavorino in gruppo e si aiutino tra loro, oppure magari si valutino tra loro alla fine dell'esercizio, del compito. E poi la discussione finale è quello che abbiamo detto essere una rimediazione, eccolo qui, dei contenuti che a casa si sono studiati attraverso il video didattico. Quelle immagini che seguono sono un po' nasinossi, desunta dal testo interessante di Rivoltella che parla di episodi di apprendimento situato che non sono, e da qui l'acronimo EAS, che non sono sinonimo di flipped classroom in tutto e per tutto, sono qualcosa di più dettagliato e infatti vengono divisi in tre fasi, fase preparatoria in cui l'azione del docente è quella di assegnare il compito, quello dello studente è quello di leggere e comprendere e poi ecco, dicevamo, problem solving. In questo caso queste sinossi sono un po' una riflessione sintetica di quanto abbiamo detto. Qui proseguono alcune riflessioni sempre desunte dal testo di Rivoltella e poi, proprio per fare in modo che questa enunciazione teorica degli EAS, episodio di apprendimento situato, possa essere più chiara, ho inserito qui anche un video proprio del professor Rivoltella in cui si spiega in maniera molto chiara in dieci minuti quello che è la didattica. Naturalmente questa è una parte che non riguarda direttamente i ragazzi, ma riguarda i docenti che vogliano eventualmente approfondire questa metodologia. Qui ho inserito poi degli approfondimenti sugli EAS, in cui si vedono un po' anche le differenze con la Flipped Classroom, perché EAS non è sinonimo di Flipped Classroom e quindi ho creato dei tasti, cliccando i quali si viene poi indirizzati tramite browser a degli approfondimenti sugli EAS, su alcune slide. In questo modo quindi ho inserito anche, ma per pura opportunità tecnica, anche un link eventualmente all'acquisto di testi su Amazon, altri siti online dedicati alla Flipped Classroom. Quindi abbiamo visto un modulo costruito, ripeto ancora, tramite il sito tac.com, che è un sito gratuito che consente di fare questi cartelloni, questa sorta di cartelloni multimediali, peraltro, vedete, senza alcuna pubblicità, quindi senza alcuna distrazione. Abbiamo visto come erogare un modello. Il punto che io ritengo in assoluto più importante è quello dell'esercizio in classe, vale a dire il punto numero 3, che è quello che ora riprendo. Eccolo qui. Fase numero 3, esercizio in classe. Non tanto perché i ragazzi debbano fare l'esercizio in sé, quanto perché in questo momento aver dato un video da studiare a casa libera del tempo per fare in modo che il docente assista ai ragazzi che immagina abbiano delle difficoltà e li assista nel momento in cui loro hanno veramente più bisogno del docente. Questo credo che sia il vero valore aggiunto della classe capovolta. Il fatto che il docente assiste nel momento in cui forse i ragazzi hanno maggior bisogno di lui, gli studenti stessi nella risoluzione del problema.